Giuseppe Canavese è il direttore del Parco Alpi Marittime, capofila di questo nuovo progetto europeo Life, dedicato al lupo ma non solo. Cominciano cinque anni di lavoro, una bella sfida? Sì, sicuramente sì, abbiamo l'esperienza del progetto che si è concluso nel 2018, è un nuovo progetto e le azioni saranno tutte mirate a trovare questa convivenza tra uomo e lupo. Questo è molto importante, molto importante è la specie lupo per la biodiversità in ambiente alpino ma altrettanto se non più importante è la presenza dell'uomo, soprattutto di chi ha delle attività in ambiente alpino. Noi dovremmo con le azioni di questo progetto cercare la miglior convivenza possibile.